Eccoci qua, abbiamo con noi Andrea Crestani, che è il direttore di Ambiveneto, devo dire in altre occasioni l'abbiamo avuto per parlare di problematiche legate alla meteorologia, siccità piuttosto che rischio idrogeologico, in questo caso invece siamo qua per presentare un evento gioioso, vale a dire dall'11 al 19 di maggio si tiene in tutta Italia e quindi anche nel Veneto la settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che ormai quasi tradizionalmente presentiamo anche in questo spazio. Quattro sono fondamentalmente i capisaldi della manifestazione, sono l'apertura degli impianti, in particolare le cosiddette cattedrali dell'acqua, quindi i grandi impianti idraulici. Poi le attività didattiche, quindi premiazioni, visite guidate per le scolaresche, conclusione di percorsi didattici che hanno attraversato i mesi scorsi, ovviamente hanno attraversato l'insegnamento nei mesi scorsi. Quest'anno si è aggiunto Obiettivo Acqua, che è un concorso fotografico nazionale che ha ottenuto un buon riscontro con oltre 400 opere che sono arrivate e di cui sarà ufficializzato il vincitore con una manifestazione a Roma alla presenza del Ministro dell'Ambiente. Il quarto caposaldo riguarda specificatamente il Veneto ed è la seconda edizione del Festival della Bonifica che si tiene dal 16 al 19 di maggio a San Dona di Piave. Perché San Dona di Piave? Perché lì nel 1922 è nata la moderna Bonifica, la cosiddetta Bonifica Integrata. Infatti la seconda edizione del Festival della Bonifica è un'ulteriore tappa di avvicinamento alla data delle celebrazioni che cadrà appunto fra tre anni. Detto ciò, la parola da Andrea Cristani per spiegare in particolare cosa succede a San Dona. Sì, come hai detto, la settimana della Bonifica è un momento importante per il sistema dei consorsi. Dieci consorsi di Bonifica, più un consorzio di secondo grado che è il canale Elissigno-Eugane-Oberico, fra l'altro poco conosciuto ma importantissimo perché porta l'acqua dal Veronese fino alla provincia di Venezia e quindi è importante per l'agricoltura della regione. Chiedo scusa, così abbiamo spiegato anche quanti sono i consorsi. Sì, ecco, la settimana della Bonifica è un momento molto importante sia a livello nazionale e soprattutto per la nostra regione, per le attività che stiamo mettendo in campo. A livello nazionale, come dicevi, le iniziative sono molteplici. In realtà è un momento di contatto con la cittadinanza, un momento di contatto con le comunità, è un momento di apertura del sistema dei consorsi verso le problematiche che toccano più da vicino i cittadini. Proprio su questo tipo di concetto oramai abbiamo pensato nel Veneto, già dall'anno scorso, quindi quest'anno la seconda edizione, di mettere in campo un'iniziativa che poi si sovrappone esattamente con la settimana della Bonifica per il nostro territorio, di un evento importantissimo che l'abbiamo definito Festival della Bonifica che ha un nome bellissimo che si chiama Terre Evolute, quindi si gioca sulla parola di Terre Evolute o Terre Evolute e quindi con questa necessità che avevano le comunità di far emergere le terre dalle paludi e di terre che grazie poi all'attività dell'uomo e della Bonifica si sono evolute fino a diventare fertili, produttive e dare oggi quello che è una delle caratteristiche principali del sistema della nostra regione. Terre Evolute è il Festival. Il Festival si tiene a San Donà di Piave, come avete sentito, perché San Donà per noi è un punto di riferimento storico e l'evento accompagnerà l'evento del centenario che si terrà nel 2022 perché in realtà a San Donà ha dato origine appunto la moderna Bonifica attraverso un congresso che allora ha messo insieme le più grandi personalità di quel momento, dai politici a tecnici e ai scienziati, che hanno messo in campo le nuove regole per la gestione del territorio, la famosa Bonifica Integrale. La seconda edizione è ricca di appuntamenti. Ci sarà un'inaugurazione il giorno 16, un momento di condivisione con le autorità di livello regionale. La regione ha inserito questo evento all'interno dei grandi eventi della regione e ci sta accompagnando anche sostenendo finanziariamente questo importante progetto. Ma anche detto che la Bonifica è un aspetto importante del territorio veneto, insomma quindi del veneto orientale, basta pensare al Polese, insomma è connaturata la storia e la cultura del territorio. Esatto. Dopodiché seguiranno nei giorni successivi, quindi dal 16, 17 e il 18, tre giornate che durante la mattina, le mattinate e il pomeriggio, ci saranno delle sessioni di lavoro, dei simposi, delle tavole rotonde, su temi specifici dove in realtà questi simposi sono stati preceduti da un'attività molto intensa di approfondimento scientifico fatto insieme con le varie università. I temi che tratteremo vanno dall'uso della sostanza organica per il miglioramento delle qualità dei terreni proprio per il rapporto alla risorsa idrica, quindi trattenere più risorsa, più acqua e riconsegnarla alle culture nel momento che ce n'è più bisogno. Tratteremo un argomento importante che è legato a ciò che l'evento calamitoso dell'ottobre scorso, del 2018, ha causato, la famosa tempesta avaia, che ha però portato sul territorio del Veneto dei dati nuovi nella progettualità e quindi sarà un approfondimento tecnico-scientifico specifico su questa materia. avremo un simposio che parlerà e analizzerà la legge della bonifica a dieci anni dall'emanazione, sono già passati dieci anni dal 2009, avremo un simposio sul paesaggio e poi avremo un altro momento importantissimo dove l'associazione Aissa, che sono tutti studiosi, giovani ricercatori under 40, a un sistema diretto internazionale che metteranno assieme tutta una serie di esperienze. Ritorno sulla legge, per esempio, sul simposio legislativo, che è uno dei simposi più importanti di questo momento, di riflessione sulla legge. Metteremo un po' a nudo ciò che abbiamo costruito, ma anche in relazione a una visione storica che c'è stata, perché le nostre leggi poggiano sui reggi decreti del 1933. Quindi qualcuno dice, frutto di legislazioni ormai bussolette, vecchie, da rinnovare. In realtà la visione storica di quel momento, proprio in funzione delle norme sui consorzi di bonifica, ha dato potere di autonomia ai territori, quindi trasferendo in maniera sussidiaria competenze dallo Stato verso i territori, addirittura ai cittadini, obbligandoli, fra virgolette, o chiedo, di consorziarsi in forma privatistica per poter gestire le opere pubbliche e finanziandoli direttamente con delle risorse proprie. Ora, tutta questa visione, che è frutto di reggi decreti, è moderna o no? Nel momento che parliamo di autonomia, di trasferire i poteri dallo Stato verso le regioni, dalle regioni verso i comuni, dai comuni sempre più vicini ai cittadini, ecco, dove si inseriscono i consorzi di bonifica in questa nuova visione? È una visione moderna ancora o forse è stata veramente, abbiamo anticipato i tempi ancora quasi cento anni fa? Ecco, questo è uno delle riflessioni che faremo. Ma anche dal 1933 ad oggi, insomma, anche la legislazione è stata aggiornata, c'è stato l'accordo Stato-Regioni del 2010, mi sembra a memoria. Sì, che però ha ribadito i pilastri fondanti, che sono l'autogoverno e l'autonomia finanziaria, che sono due pilastri importantissimi, che sono frutto uno della sussidiarietà e uno dell'autonomia finanziaria. E questi sono due elementi che a tutt'oggi stanno diventando materie di discussione, insomma. Ecco, questo fa parte della parte scientifica del festival. Poi c'è una parte spettacolare. E poi, giustamente, nel pomeriggio, tardo pomeriggio e sera, il festival sarà ricco di appuntamenti, come presentazioni di libri, incontri con gli autori, momenti di discussione, fino ad arrivare poi agli spettacoli serali. Quest'anno abbiamo tutti gratuiti, aperti alla cittadinanza e a chi vorrà partecipare. Quest'anno abbiamo, oltre al direttore artistico, che andrà a Pennacchi, che terrà uno spettacolo, abbiamo la Teresa Mannino, abbiamo Giobe Covatta, quindi in cartellone ci sono nomi conosciuti dal mondo dello spettacolo e televisivo, che aglieteranno le serate di questa maratona del festival della bonifica. È logico, poi, che integrato a tutte queste situazioni, durante il fine settimana, cioè il sabato e la domenica, oltre a tutte le iniziative che si terranno in tutti i consorsi del territorio per la settimana della bonifica, quindi abbiamo detto impianti idrovori aperti, visite guidate, incontri con gli studenti, biciclettate, all'interno del festival, proprio dalla sede di San Donà, partiranno una serie di tour verso il territorio, proprio per visitare in maniera puntuale gli impianti idrovori, i sistemi della bonifica, attraverseremo e navigheremo i canali con barche elettriche, faremo dei voli con degli aerei per vedere dall'alto quello che sono gli importanti snodi idraulici che vedete in queste immagini, che visti dall'alto danno il senso dell'importanza del governo dell'acqua nella nostra regione. E così, durante tutto questo percorso dei quattro giorni, ci saranno momenti poi con delle microband che suoneranno e celeteranno le serate, un momento al village del festival di terre volute dove si potranno degustare prodotti tipici, poi mercatini e incontri con i produttori del territorio, esposizione di macchine e quant'altro, quindi è una kermesse... Abbiamo visto alcune bellissime immagini e va ricordato che molti di quegli impianti saranno aperti anche in altre zone del Veneto, cioè il festival della bonifica a San Donato di Piave, ma la settimana interessa tutto il territorio, quindi è un'opportunità, è un'occasione da non perdere. Sul sito www.festivaldellabonifica.it troviamo tutto il programma completo delle giornate, prossimamente sul sito Ambi dell'Ambiveneto.it sarà anche disponibile, ma collegato anche al programma di terre volute di San Donato saranno disponibili tutti gli eventi più importanti che caratterizzeranno la settimana della bonifica di tutti i nostri 11 consorzi di bonifica. Ecco, credo corre l'obbligo di ricordare che però già questo fine settimana, tempo permettendo, c'è un'anteprima del festival della bonifica di San Donato di Piave. Sempre a San Donato c'è un'anteprima del festival. sono occasioni appunto per visitare il territorio fra l'altro in maniera come si può dire multiciclabile, multipercorribile che si può andare in bicicletta a piedi, perfino in aereo si può visitare il territorio naturalmente in barca essendo un'anteprima. Ecco, ricordiamo a chi ci ascolta che tutte le visite, i tour per esempio, gli altri eventi la partecipazione è libera. Per i tour è interessante l'iscrizione e quindi la prenotazione perché allora così l'organizzazione riesce a gestire anche meglio i flussi delle persone verso il territorio perché partiremo da punti ben precisi di San Donato per andare poi con bus o altri mezzi verso il territorio perché i nostri impianti non sono limitrofi alle città ma sono dispersi sul territorio. E i luoghi ameni da conoscere. Da conoscere. Quindi l'opportunità sarà il Festival della Bonifica 16-19 maggio a San Donato di Piave ma attenzione ciascuno al proprio territorio perché dall'11 iniziano le manifestazioni della settimana nazionale della Bonifica dell'irrigazione e molti saranno gli impianti aperti nei 10 consorsi 11 consorsi operanti nella regione. Grazie ad Andrea Questani che di Ambiveneto è il direttore. A voi, alla prossima. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.